Salperà domani da Trieste, destinazione la Siria martoriata dalla guerra civile, il convoglio umanitario organizzato dalla ONLUS Auxilia, un primo convoglio di emergenza che servirà a portare aiuto in particolare ai bambini. Alessandra Solarino. Salperà domani da Trieste il convoglio umanitario della ONLUS Auxilia a sostegno dei rifugiati del campo di Atma, un ex uliveto dove vivono 22.000 civili, di cui 4.000 bambini, vittime della guerra civile siriana. Per loro saranno imbarcati fino in Turchia per poi proseguire via terra due tir, con genere di prima necessità, giocattoli e vestiti, caricati stamattina alla caserma di Duina Orisina e all'autoporto di Fernetti. Ci saranno anche 30 letti per l'ospedale di Idlib e prodotti per i neonati come latte in polvere, passeggini e biscotti Plasmon. Un'iniziativa nata da una pagina Facebook. Ho deciso di cominciare a raccontare giorno per giorno tutto quello che in Siria succedeva. Questo risale un anno e mezzo fa. Da allora non ho saltato neanche un giorno nel fare questo racconto ed è nata poi tre o quattro mesi fa l'idea di farla diventare qualcosa di più concreto, dare più un senso a questo racconto. Insieme a Massimiliano Fanni Cannellis, il presidente di Ausilia, abbiamo deciso di lanciare questa campagna per raccogliere aiuti da portare ai bambini di Atma. Una raccolta fondi a cui hanno aderito 23 città italiane, da Trento alla Mezzia Terme. A coordinare tutta l'operazione, la Ollus auxilia. Sono operazioni a costo estremamente infinitesimale perché sono gestite da volontari e perché in qualche maniera si riesce, grazie all'aiuto di industrie, di ditte, di finanziatori o comunque anche di meccanismi manageriali estremamente semplici a ridurre i costi delle operazioni. Insieme per la Siria hanno collaborato etnie musulmane, cristiane, ebree e di qualsiasi tipo anche di razza.